Ciao a tutti, popolo del tubo e bentornati in un nuovo test mod un test mod per console e per pc e ovviamente trattasi di produzioni sapete che io sono un malato di produzioni, un fanatico delle produzioni un patito delle produzioni, non so se avete capito che amo le produzioni oggi vi porto l'acquacoltura ovvero andiamo ad allevare dei pescetti che poi andremo a vendere, prima di fare questo però vi devo ricordare un po' di cose ovvero che in descrizione c'è Twitch dove sono in live tutte le mattine e tutte le sede e se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis al canale e sostenermi e aiutarmi con questo piccolo grande gesto che per me vuole dire tanto un altro piccolo grande gesto che potete fare è offrirmi un caffettino con il tasto super grazie qualcuno mi ha chiesto come funziona, è semplice, qua sotto fra il like e il condividi come vedete c'è un piccolo cuoricino con la forma del dollaro se state dall'app dovete scorrere un pochettino con il ditino lì dove ci sono i like quella roba lì, c'è questo piccolo cuoricino con il simbolo del dollaro sopra ci cliccate e lì potete ovviamente offrire un caffettino al canale nella giornata di ieri mi ho offerto gentilmente il suo caffettino Giovanni De Carli che io ringrazio e a lui dedico questo video inoltre ci sono tutti i miei link utili in descrizione affittare un server nitrato, comprare giochini scontati di Stagaming la mia affiliazione Giants Partner dove è possibile acquistare qualsiasi cosa che riguarda farming poi i miei social Facebook e Instagram ma andiamo a vedere come funziona questa produzione di pesci innanzitutto vi dico che ieri è stato aggiornato il gioco per tutti noi qualcuno ha dei piccoli problemini di lag è normale anche in questo video vedrete qualche micro lag sono le decals che vanno ad aggiornarsi pian piano più aumenteranno le vostre ore di gioco e più i lag diminuiranno quindi non vi fate prendere dal panico mi raccomando abbiate un pochino di pazienza andiamo a vedere innanzitutto dove troviamo tutto quello che contiene la mod ovviamente in modalità costruzione, produzione abbiamo fabbriche e qui abbiamo per 20.000 euro ecco qui la vasca dove andremo ad allevare i nostri pesci e poi in punti vendita abbiamo la bancarella del pesce ecco qua che è il suo punto vendita veramente molto carina vorrei farvi vedere i modelli grafici, i modelli 3D di tutto, sia di tutto l'impianto ragazzi sia, guardate che carina la vasca con i pescetti dentro sia di tutto l'impianto ma anche della bancarella del pesce che è molto 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 carina guardate che roba queste sono le vasche ecco vedete che ci sono dei micro scatti è normale raga, con il tempo andranno via questa è la bancarella del pesce vedete, non so se quello è il ghiaccio credo dovrebbe essere il ghiaccio con cui viene venduto il pesce guardate che spettacolo bello 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 questa è la vasca dove ci sono i vostri pescetti ma come funziona la mod? beh la mod è abbastanza semplice in realtà appunto essendo una produzione non è così complicata ha bisogno di mais semi di soia frumento e mangime minerale che è quello standard per le vacche insomma perlomeno con questa mod ha un'utilità il mangime minerale perché a parte il robottino per far partire il robottino nella stalla meccanizzata di default tutta st'utilità del mangime minerale io non l'ho mai vista e non la vedo qui invece grazie ai vari a questi cioè a questo ingegno del modder ecco è possibile usare anche il mangime minerale e ovviamente ci sarà del buon pescetto prodotto andiamo a vedere allora iniziamo ad aprire la portiera come vedete qua dove dovete mettere dentro la roba è possibile aprire i coperchi ovviamente se no non ci scaricate quindi voi venite qua con un carro con un rimorchio con una pala gommata fate un po' come vi pare e scaricate tutti i vari ingredienti ecco qua vi mettete qui questo è il punto di scarichetto mettete qui e caricate ecco per fare una cosa più realistica vi mettete casomai sopra ma comunque questo è il punto di scarico come già detto potete utilizzare tranquillamente anche un rimorchio quindi non necessariamente dovete usare una pala gommata adesso andiamo a scaricare con il rimorchio così vi faccio vedere così vi faccio vedere che viene accettato ugualmente ecco qua vedete e infine se state usando il mangime minerale in pallet vi faccio vedere che quel punto di scarico accetta anche direttamente i pallet adesso Robertino vostro ve lo fa vedere ecco qua ci avviciniamo con il mangime minerale e come vedete accetta anche i pallet ecco qua una volta che tutti quanti i fill type del materiale in arrivo saranno pieni non dovete far altro che attivare la produzione vedete 120 cicli al mese costi di produzione al mese 1440 euro produzione attiva ecco qua ci sono 4000 litri massimi per ogni tipo di materiale io già mi sento qualche voce che dice ma Robby Robby dove sono le casse dove spawnano le casse io non vedo le casse tranquilli c'è Robertino vostro il pro di farming amici il modder vi fa spawnare le casse dentro a questo container blu guardate che spettacolo va a simulare una specie di container refrigerante come vedete con le ventole dove il pesce non si rovina guardate che robina e le casse possono essere raccolte manualmente perché come vedete pesano 160 kg praticamente ogni cassa è da 160 litri come vedete potete raccogliere tutto manualmente ed ecco il vostro pesce fresco da vendere poi alla bancarella eccola qua voi vedete qua la vostra bancarella del pesce ed ecco fatto che il pesce viene venduto allora con la mia partita a facile il prezzo del pesce è 3500 euro io direi che vale veramente la pena mettere su la vostra piccola aziendina di acquacoltura com'è che la chiama vabbè comunque mettete su il pesce perché il pesce ragazzi cese guadagna insomma il pesce detto questo io mi auguro che questo video sia stato di vostro credimento lasciate un bel like commentate commentate iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sul mondo di farming e dei simulatori in generale fatemi sapere cosa ne pensate del pesce e vive il pesce e noi ci vediamo al prossimo video ciao